A parte che lui non ho niente Nel senso che non ho niente Non ho munizioni davanti io La porta adesso è aperta Perché prima Da dove sbucchiamo? Devo dargli il coltello lui Siamo nella wall? L'imparcatura dovrebbe sta Ma non Ma vai Ok Penso di essere al piano di sopra Della Hall No forse no Così piccole Sono da un'altra parte Boh non ho capito Probabilmente abbiamo esplorato Prima è una parte che andava esplorata dopo Leggiamo qua Regolamento per gli apprendisti Missione nel centro di addestramento Questo centro di addestramento servirà A formare una nuova generazione di dipendenti Modello In grado di garantire il futuro dell'Umbrella Adottando gli standard di addestramento più severi e rigorosi Questo centro senza alcuna distinzione di genere Razzo o religione Sarà in grado di produrre solamente I migliori candidati Tra cui verranno scelti i futuri leader Sapremo sviluppare la nostra leadership Disciplina Obbedienza Unità Sono questi i tre principi fondamentali Che regolano il codice di comportamento di dipendenti dell'Umbrella Fate nel vostro costante punto di riferimento Dedicatevi intensamente all'addestramento Onerate voi Il padre e la madre Esatto Siano santificate le festività E poi Qua Necessario avere il disco Ho capito E niente Qui praticamente c'è un altro salvataggio Però io voglio tornare all'aula Questo salvataggio qua Non mi piace Andiamo in questa porticina qua fianco Vicino al quadro Vai Allora Tutto silenzio Eccolo Qua c'è Porca troia Cos'è sta roba Prendere manovella Prendere manovella Prendere manovella E' bo Per forza Quegli lì E' bo Qua è pieno di stronti Abbiamo finito Raga Ma rompere il cazzo Allora Avviso al personale Riunioni delle squadre Che lavorano allo studio Dei vaccini E degli agenti infettivi Saranno tenute regolarmente Entrambe le riunioni Sono classificate Con il livello di sicurezza 5 Si terranno Nei seguenti ambienti Il codice di accesso Sarà 8 e 15 Stivo Austin Va bene E poi Qua si può andare Ok Perfetto Qualche traccia di cene Lo accendiamo Lo prendo Ma dove Tu sei andato Alla porticina Quella che diceva Dalla stella conferenza Giusto Non sei andato Dove c'erano i corvi E poi sei andato No eh Allora Allora ci siamo capiti male Ma Che fa Beppe Perché ho detto Qua ho trovato un microfilm Ma tu dici Dentro La stanza Porco Ho capito Io qua vedo Beppe io ero a secondo piano Della hall però Se tu sei andato Dall'altra parte No io sono andato Secondo piano della hall Però nella stanza dove c'erano Ti ho detto le conferenze Dove c'erano quei Quei computer Tu mi hai detto Perché tu mi hai detto Vicino No esatto Dentro Dentro Vicino C'era una porta Vabbè Torno Vengo dove Dove sei tu Eh no Io ormai Ci scambiamo praticamente L'ho fatto Andiamo qua Andiamo sta porta No no Stai ferma Stai ferma Aspetta Che cazzo È qua che dovevo andare Non lo so Sì Decisamente Sembra caso Ragina Se non mi aiuti Io finisco le munizioni No no Ma è palese Che finiscano le munizioni Perché Allora Cosa stiamo facendo Let's regroup Poi lo fai Roger Eh roger Ok E quante munizioni hai Cinque Cazzo raga È finita Eh Devo andare a prendere I coltelli Mi state dicendo questo Perché Eh Io il coltello Mi lo son portato Non serve Perché Adesso lui Senza munizioni Simbolo del fuoco Eh boh Che sta succedendo Sto prendendo una porta Mappa Minchia Il cazzo Che piccolo È grossa Come Villa Spencer Allora Quanto meno L'edificio principale Poi non so Guarda che roba Sì adesso Ecco allora Sì dove ero Prima io Perché ho preso La mappa Prima Eh Poi c'è un microfilm Anche Sì però A me servono Delle munizioni Non un microfilm Eh però Ti devi levare Sto facendo fatica Con le munizioni Che non ne hai idea Proprio Incrido Devo usare Quello del fucile a pompa Perché sono Sono a secco Di pistola Perché tante Amiche 11 in cribbo Che cazzo Voglio Qualcuno Deve aver usato Sto computer E quindi E quindi Siamo in sta stanza Adesso Ci siamo raggruppati Anche noi Idealmente Perché io Scalfare Viene fatto Pazzesco Qua Ah Guarda lì E vedi Praticamente Io avevo già Esatto È un argon Utilizzato Per il pannello Qua ci va La leva Come si chiama Manovella Che ho trovato io Praticamente E quindi Cosa facciamo Dove l'hai trovata Questa manovella Nella stanza In cui tu eri Ero prima Però Però adesso Secondo me Se io mando lei Lassopra Cioè chiunque Sta sotto Poi si sta sopra Bestemmia Perché qua le munizioni Quindi devo tornare Per la prendere Quella manovella Io Eh tu per la manovella Io devo andare a prendere Delle armi Perché sono qua Andate così Io Non so come fa Cioè io Sono senza niente Non so come farlo C'è solo C'è solo dei coltelli Così c'è a sto posto Di merda Ma lei c'è il microfilm Me lo tengo Microfilm dietro Adesso la manovella Anch'io Ma mi stai sentendo Beppe Sì sì ti sto sentendo Allora Sto microfilm che faccio Me lo tengo Eh ma io pure Ce l'ho Non so che cazzo fare Io l'ho L'abbiamo parata A metterli in sala conferenze Boh non so che cazzo Effettivamente no Proviamo Ma perché non mi hai seguito Quello Eh Guarda No ma Quello che mi è successo A me prima Che poi mi chiama Con la radiolina Eh porca Eh esatto Allora muore E mi incazzo Dai però Io Sì però Di intelligenza artificiale Si sto andando via Nei che rimane di boh Eh capito Allora Non male che Non hanno ammazzato i corvi Sala conferenze Dove lo fico Sto microfilm Non lo so eh Di boh Dove c'è Boh dove c'è Qualcosa acceso magari Eh no Ma security system Ah boh Da niente Allora l'abbandona Allora l'abbandona Sopunto Stando tu hai già fatto una prova No vabbè Comunque succede niente Ok E lui adesso lo tengo io Equipaggiato Perché sennò So già che va a finire Che mi spreca Tutte le monizie di fucile Sto piccio di merda Allora Niente io Sono Sono Io colpi che ho Sono sette colpi del fucile Basta Non so come cazzo Salvo Perché salvo Perché ne ho tantissimi Di ribbon Di e Va bene Lo uso adesso Nel senso che alla fine Mi sembra che dove potevamo evitarli Li abbiamo evitati No ma è che lui Se gli dai qualunque cosa in mano Lui appena vede qualcosa Deve si sparare C'entra da fare Ah lì era chiuso No dobbiamo andare esatto A fare la manovetta Della minchia Eh roger Cambia E usiamo la manovetta Con lei E' un argano No No Sti comandi Basta Basta Cazzo Usa Vai Vai Non sembra che Rebecca Possa usarlo Mi hai rotto il cazzo Perché deve essere forte Mi sa verrà Hai proprio scassato la minchia Va bene Allora Ridammi il microfilm Io l'ho abbandonato il microfilm Speriamoci bastino Speriamoci bastino Speriamoci bastino Le munizioni Tutto Usa sto cazzo di argano Spacca coglioni Allora Usiamo Sto cosa Allora A parte sto rumore E' super fastidioso Qua sopra c'è Cristo Sì 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 Ok Attenzione Eh tua madre Ah sì Perché ho come l'impressione che adesso muoio Maledetta la madonna Ah c'è sto co Oh mio dio Le scolopendere Eh sono Tu che mi ricordi delle scolopendere Sì però io mo son morto Dove rifà tutto Io l'ho salvato prima Gesù Cristo Continuo Forse il rumore del cazzo Io l'ho deciso di farlo andare ammazzato Dopo i miei colpi Bastardo Nooo Beppe Ma quanto indietro sto salvataggio Ah io l'ho salvato adesso Mentre che c'ero Porco di Un po' sta bestia di merda L'ho usato di cucina pompa Due colpi Non dovete mettere ciascuna Perché se ti chiudo nell'angolo Visto che lei Ha una resistenza di merda Le due salute ti fanno fuori Ok Perfetto E va bene Quante ce n'è Ecco Due Porco di Cristo No però se iniziamo a sprecare i proiettili mi hai rotto il cazzo Beppe non la sta beccando Come la sta beccando? Non la becca Io sparo non la becca Ma cazzo Niente devo rifare Meno male ho salvato adesso Però Gesù Cristo Allora prima Senza problemi E la seconda Però io ho avuto un altro video Mi ho spiegato una munizione ma Allora Eh però mi hai rotto il cazzo Cioè allora Che vogliamo fare qua? Io schiaccio te non spari Mi hai rotti i coglioni Porta pazienza Allora Poi Questi ingranaggi Devono far parte di sta minchia Poi lì ci sono delle munizioni per le Per la pistola Quanta roba ho? Adesso vediamo Qua c'è una porta Esatto Una porta gialla E il resto invece? Il resto niente Allora c'è un orologio qua Che dice che manca Sul corrente manca la lancetta di minuti Ok Perfetto Che dovevo trovare E va bene Lì ci sono delle munizioni della pistola Che però tanto sono di lui Cioè nel senso Io adesso con lei L'ho presa perché Ho solo quella Dopo vediamo Però raga qua Unica è la porta quella lì Gialla Io lo vedo Dice già un corvo a rompermi il cazzo E niente Lì Io corrono Di sparo Perché sprecare munizioni Ah un'erba verde Accoglila L'accolta Eh vaffanculo M'han preso Qua c'è un montacali Che mi hanno dato i coglioni Nero una rossa Eh vabbè Adesso le dai che per Corri Porca Mazzani Allora qua c'è sto montacarichi Che devo fare Salgo su Eh ma da tu ci sono delle scatole davanti Non fa salire Ah andiamo da sta porca Madonna qua che cazzo di spazio Qua mi sa tanto Che enorme Ma poi che cazzo è sto posto Porta pazienza Qua che dice Il dispositivo ha terminato Di riavvolgere la catena Direi che è bestiale Questa situazione qua Qua si scende giù No 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 Raga non era necessario Ti ho sceso Eh si Ma dalla scala pioli C'è un nome macchinario Ma non hai idea di come Si Praticamente ti butta in una gabbia Per animali Che sotto c'è un oggetto Tendenzialmente Dobbiamo riavvolgere sta minchia di catena In qualche maniera E fino a qui Tutto bene Però Lì ci sono i cristiani sbarrati Esatto Qua c'è una porta nelle grate Che sborrano l'accesso alla porta Esatto E poi Qua c'è una roba che va giù Qua c'è una scala che va giù E anche All'altra scala più Entriamo qua Entriamo qua subito No porco de c***o No 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 raga Eh vabbè Muoio 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 Ok Muoio E niente Quattro colpi Ehm Quello vabbè Quello è un Ah ok Intanto No ma io volevo quello che c'è sotto Il dipinto Esatto Ma scusami non ho capito Vabbè Piglia sta munizione Sì sì Munizioni del fucile Trovate E va bene E poi lì c'è un lanciagranate Eh l'ho dovuto usare se non morivo E non volevo rifarmi tutto da capo Va 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 Eh però Hai bisogno di due blocchi Niente va così Esatto Pre l'istatua bianca Esatto Sì 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 Non ho più Non ho spazio Non ho niente Dove cazzo la mollo sta roba Ma niente Bisogna tornare indietro Bisogna far più viaggi Puoi ricordarmi che in questo posto c'è il lanciagranate Esatto Adesso l'abbandono anch'io L'ho usato Solo per Abbandona Sì E questo è un bene C'è un shortcut Esatto Sì Sì Però A questo punto Abbiamo un problema Che lui è rimasto là Che lui è rimasto là Non è tanto un problema Il problema è che ho lasciato le munizioni Ma ora faccio un po' di giri C'è un limite a quanti oggetti puoi lasciare in una stanza Ah sì Questa qui è nuova Mi sto andando a recuperarmi lui però Eh ok mi vado a recuperare lui anch'io E poi faccio un salvataggio tattico sotto E poi con lui ritorniamo su No Che è successo? Eh che c'è un porco di là Cosa è successo? Che non so da dove sbucare No raga no Davvero Che palle Io non ho tutta questa energia Io voglio Non so se ti ha un salvataggio Tino Cucù Però se il macchinario qua non si può usare Vuol dire che dobbiamo solo più fare qualcosa Con quelle catene Io sono ancora nella ola Scusami Con quelle statue Esatto Io sto prendendo la statua Quella bianca di da terra E la combino con quella nera Secondo me non vanno combinate Secondo me vanno messe sulla bilancia Ah hai ragione Ah già I corvi a spaccare il cazzo Ecco Non sprecare i colpi di fucile contro i corvi Scema di merda Eh io devo levare le armi a lei Cioè non c'è niente da fare Da chiunque Perché se è andato a dei corvi C'era a shot cazzo Cazzo ne frega No Perché con lui L'unica maniera di andarmi a recuperare Sti colpi era qua E qua c'erano i colpi Ah ok Ok io li avevo presi Eh ma io non avevo spazio Da sprecare Va bene No no Te devi stare ferma Te devi stare ferma Deficiente Disequipaggia sta minchia Stai senza A parte che io e te siamo due cretini Perché Se avessimo voglia Cioè C'è la maniera Puoi impostarli in modalità pacifica Che non sparino Basterebbe fare quello Siamo i migliori Siamo i migliori Cioè basterebbe proprio fare quello E risolvi tutti i problemi Però raga Andate così Andate così cazzo Avevo sputtanato 6.000 colpi Di qualunque cosa Ma dovrà La mostro lancia granate Prendila E lo portiamo nella hall Allora andiamo nella hall Niente qua non mi fa fare un cazzo Bisognerà poi sollevare quella roba lì In qualche maniera Quindi a questo punto Tornerei tranquillamente nella hall A fare qualcosa con queste due statue Allora Io vengo qua davanti E mi dice C'è scritto qualcosa Quando il bene e il male Saranno in equilibrio Il nuovo sentiero Ti si aprirà davanti Direi che È abbastanza Esplicativo Usa Usa Ecco Ovviamente mancano dei pezzi Alle statue Esatto Non fa un cazzo L'ho scoperto anch'io No ma che è splitta E allora che cazzo ci manca qua da fare È un problema Ah no te lo dico io Beh per cosa dobbiamo fare Vado Dobbiamo ammazzare I corvi del cazzo E fare qualcosa con quel montacarichi di merda Mi sa Comunque sai che non fa un cazzo Il montacarichi non fa assolutamente un cazzo Sai che hai ragione Fa proprio una minchia Se il montacarichi Quindi ritorniamo dalla piscina un attimo Fa proprio un cazzo Allora capiamo Che cosa manca all'appello Manca che ci sono un sacco di stanze Ah ma tanto non ci possiamo arrivare in quel posto lì Esatto Ehm Bene Ammazzati i corvi per niente Fa piacere Un dispositivo per il rivolgimento della catena C'è il dispositivo Ma come ma non è vero Si 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 con lui si Ehm Non me lo fa Ma no no Senti ho guardato prima Porco di Cosa vuol dire Ma in quello In quello centrale vicino alla catena Con lui Non quello adesso Cioè non quello tutto a silistra Eh ma il bastardo Che gioco di merda Azioniamo sto dispositivo di merda E va bene Così abbiamo liberato l'oggetto Andiamo a recuperare il soggetto E va bene Ah si Ah ok Vabbè Capito Pazzesco Niente devi fare No ma che follow me Stai fermo Yeah Quindi praticamente la accoppiamo Ne facciamo cadere la cosa in testa Sarà interessante Magina Dai adesso fammi scegliere lei però No però Senti Ho fatto il cazzo Esatto Scusa perché Perché non Cos'è intanto Chiave dell'istituto Si Poi levati subito dal cazzo Ma il momento che Ma non è vero Non è successa questa cosa qua Non è vero Ah che io porto lei davanti alla gabbia Sono un coglione Billy Eh no ma Billy è un problema Perché Billy non ha Non ha Ah Billy ha questo Come si fa? Te Stampa in faccia No eh Billy l'ha sprecata questa cosa qua Billy l'ha proprio sprecata È un problema perché Billy Con sta pistolina di merda No ma qua c'è il re delle scodopendre Vedi che tutto torna da Resident Evil 7 Se l'è presa Io sono senza colpi con lui Non ha Eh Billy Eh Billy No ma Beppe Niente Beppe Adesso morirà E bisognava portarsi il cosa E io non ho più colpi Guarda c'ho tre colpi Andata così Niente lo dobbiamo poi fare Eh Vabbè almeno se ti volevo fare Tornaschera ma da l'estito La sto tagliando ma Carica partita Sono ammattato Sono morto Eh ma sì per forza Ah dovevo prendere ancora le fucile Scusa ma No Devi fare tutto V'ho salvato Dove sei finito Beppe Cosa devi Ah sì No no non ci posso credere Io ho salvato Sono certo di aver salvato Quindi A che punto sei Devo mettere la manovella A portare quella più di sopra E riesco a lo prendere E quindi Oh no Serio No raga Serio Ma ho salvato Ho detto Porto i due Ho detto Vado a prendere quello Prendo le due statuette Salvo Lo sei immaginato Non l'hai fatto Praticamente No raga No no Non ce la posso fare No raga Ammazzo qualcuno Ammazzo No ma io Non dirmi che ho mollato Tutto me ne sono andato Come un P Perché all'attività È quella Eh certo A me sembra abbastanza palese No raga Ma poi io Salvo sempre No non ce la posso fare Da farla adesso Però A parte che sono già letto Eh boh Vado a farla io Vado a farla io Un attimino Ma tu pure No 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 Io avevo Stavattaggio subito Prima fortunatamente Cristo La madonna Non ce la posso fare Ma lo devo giocare Per i cazzi miei Stavate qua Per arrivare poi Fai così tu Vabbè Non è esageratamente lunga In realtà Però chiaro che se devi andare a cena Devo muovermi Perché devo andarmi Tutto bene Ma proprio bene Devo ammazzare i scolo Prendere Devo prendere Devo ammazzare i corvi Col coltello Non so Ascolti me I corvi Asci di dove sono Hai ragione Si I corvi alla fine Non servivano un cazzo Serviranno dopo Probabilmente Ma abbia in te Eh non mi ha seguito Sto piccio Ma vieni Eeeh Billy Che fa Billy Ma adesso i colpi Del fucile a pompa Allora Fatto così Poi mi equipaggio Quello lì Ma ne era 10 Di colpi Questo però Perché sono diventati 6 Bili Bili Ahia direi che non è una buona idea equipaggio a questo tra l'altro perché non mi son portato cura ma stai morendo o che facciamo ah si qua non basta cosa mi son portato di ho fatto andare 6 robe di lancia granate ti hai fatto un cazzo eh fucili a pompa ok ce l'ho fatto praticamente 4 di fucili a pompa 6 di lancia granate e mezzo caricatore di pistola diamo benissimo la roba che no eh rebecca eh ti dirò yes il cazzo